Vesuvio ricoperta di neve dalla cima, le quote più basso, il maltempo non lascia la campagna con disagi, blocchi in autostrada, scuole chiuse, mareggiate e tormente di neve. Mare in tempesta e collegamenti interrotti nel golfo, disagi in Irpinia dove un tir stamattina per la strada ghiacciata è finito di traverso sulla carreggiata. Numerosi gli interventi dei caschi rossi tra Montella, Lioni e Bisaccia e l'ordinanza di chiusura delle scuole è stata già prorogata in molti comuni come Calitri, Lacedonia, Aquilonia e Monteverde. A Volturare i carabinieri hanno salvato un sessantenne di Alizzato portandolo in ospedale. Tra le situazioni più critiche nel Salernitano c'è quella di Caggiano, il secondo paese più alto della provincia. In numerose case manca l'elettricità per la caduta di un albero sui tralicci dell'Enel. La mareggiata ha messo KO la costa del golfo di Policastro e Maratea dove la violenza del mare ha trascinato con sé tutto ciò che ha trovato lungo il suo percorso. Cantieri, imbarcazioni, auto, bagni chimici e altre strutture. È stato un disastro, afferma il sindaco. Chiederemo lo stato di calamità. Crolli di massi tra Palinuro e Camerota e danni anche nel porto di Sapri. In A2 stoppa i mezzi pesanti e sono molti gli automobilisti rimasti bloccati. Neve anche nell'Alto Sagno, imbiancate le colline del Fortore e dell'Alto Tammaro dove numerose scuole sono rimaste chiuse. A Monte Falcone dei Valfortore, comunità isolata, le strade provinciali 50 e 45 sono intransitabili a causa della neve.